pressing efficace di Nigro che recupera il pallone poi lo serve ad Armeno, la chiusura di Dallara ma ancora Ischia con Masini che non aggancia Garbini per Delbino, vedete però come il pallone si è deviato dal vento e favorisca di nuovo Delbino incredibile il gol incredibile, se non vado errato, se non l'ha toccata Masini è